accade oggi programma scritto e diretto da mike 84 iscriviti lascia un mi piace e condividi il video solo così potrei aiutarmi a crescere buonasera a tutti ben tornati sul canale memoria questa dici settesima puntata di accade oggi e sono contento avete visto finalmente abbiamo la sigla delicatissima la sigla mi piace scrivetelo qua sotto se vi piace non ringraziare dj flow è il mio amico deca andate a seguire è che mi hanno regalato questa sigla bellissima poi c'è uno bello link non so chi sia ma veramente bello ma non perdiamo tempo andiamo avanti e cominciamo che qua il palinsesto è lungo era il 17 gennaio 1800 un decreto consolare di napoleone abolisce la libertà di stampa in francia e riduce da 79 a 13 numero dei giornali nella sola parigi sono 60 le testate soppresse credo così da un giorno all'altro accade oggi il 17 gennaio 1985 a causa di un eccezionale nevicata a milano crolla il palazzetto dello sport una struttura inaugurata nel 1976 è costata oltre 8 miliardi di lire 8 miliardi di lire attuali 4 milioni di euro sicuri tranquilli non regge il carico della neve stimato inoltre 800 tonnellate di neve prendete conto volete l'immagine dovrebbe essere di qua credo il palazzetto 800 tonnellate di neve tanto invece veniamo al 1988 sempre 17 gennaio debutta sulla rete tv canale 5 la sitcom casa vianello tanto della data da aveso stufa stanca lo scufa su stanca ora il mondo di anello e sandra mondaini grandissimi il nostro pensiero è sempre loro sitcom così in italia non ce ne sono più ma veniamo i nati oggi era il 17 gennaio 1706 nasceva benjamin franklin politico inventore del para fulmine tu sono stupido era il 17 gennaio 1899 e che nasceva al capone capo delle bande criminali in america durante il proibizionismo e invece il 16 gennaio 1933 nasceva iolanda ghigliotti chissà chi è la grande talità cantante bambino e ben ben bambang di 16 gennaio 1942 nasceva mohamed ali pugile campione del mondo dei pesi massimi 17 gennaio 1949 nasceva mick taylor chitarrista dei rolling stone nel 16 gennaio 1962 nasceva jim kerry attore e sventura la chiappa animali the mask e truman show allora sono tutti belli ma vi consiglio se non l'avete ancora visto che mi sembra strano e andatevi a vedere the truman show show praticamente la storia di lui che viene ripreso da quando nasce a quando si stufa poi un grande fratello ma verso una persona sola però dalla nascita quando è piccolo così fino a era il 17 gennaio invece che mi nasceva nel 64 michele obama avvocato e moglie di barack obama ex first lady ex presidente d'america il 16 gennaio 1932 nasceva vittoria belvedere attrice immaturi e la lettera 17 gennaio 1979 nasceva mica era ramazzotti attrice gran figlia di eros ramazzotti e gran figlia di la musica gran pezzo di ragazza la musica complimenti ciao michele ti vorremmo presto qui se vuoi venire noi siamo qua per fare un programma insieme ciao michele chi vuole bene sono una campione davvero stupido e niente e finiamo con il 17 gennaio del 1990 a paura costanza caraccio modella suggerla non che bene velina di striscia notizia pagata per fare quattro mosse bene signori signori la nostra puntata di accadde oggi purtroppo termina qua è stata breve anche questa ma intensa rivedrete la sigla perché adesso la sigla mettono inizio alla fine è fatemi sapere questo se vi piace signori che dire è stato un piacere ci vediamo domani con la nuova puntata di accade oggi e domani uscirà poi probabilmente l'ultimo l'ultima sfida del del terzo turno di tutti vinci di seconda edizione secondo problema degli iscritti bene sì uno dirà ma se non te lo guarda nessuno sti video perché li fai perché vedete io mi diverto io mi diverto a fare video mi diverto e quindi li faccio non li guardate se ne frega cioè ne voglio dire se li guardate lasciate un mi piace e condivideteli e c'è la frase storica del film truman show e nel caso non ci vediamo buon mattino buon pomeriggio e buona sera va bene io chiuderei qui questo mini mega puntata 17 gennaio e vi lascio chiudendo alla nostra sigla ciao a tutti un bacio a tutti accade oggi abbiamo scritto e diretto da maic 84 iscriviti lascia un mi piace e condividi il video così potrei aiutarmi a crescere ok Grazie a tutti.